buongiorno a tutti ragazzi in questo nuovo video ovviamente parleremo del 24esimo episodio di zombie tsunami spero che vada meglio anche questo e facciamo anche qualcosa ma non lo so beh vi ha una buona visione una visione ragazzi ragazzi eccoci qui in the weather the game map l'applicazione che prevede le previsioni meteo e adesso andiamo a vedere un po si è risolto qualcosa vediamo possiamo provarci d'accordo andando vediamo come a finire ecco si si è aggiustato un pochino a posto mercoledì giovedì venerdì oggi siamo giovedì quindi ancora gelo e anche da domani gelo poi qualche neve la fa anche anche nell'himalaia però più forte rispetto lunedì e martedì e mercoledì proprio bu no burian tormenta il burian è quello più forte ancora capito ragazzi che fare ci guardiamo il magnifico panorama bianco che lo diventerà di nuovo anche col bug che c'è stato e che si può fare vediamo no non gioco giorni della settimana e basta voglio ok ragazzi 120 gradi sotto lo zero la l'everest 110 gradi l'artico di angry shark evolution 20 gradi sotto zero angry dragon e poi più sotto 3 gradi nel sud dell'isola e poi quindi 10 gradi e nel pacifico di angry shark evolution angry shark world e islone uber si può andare anche da 20 o 15 non so esattamente beh queste sono le temperature avete visto raga adesso vediamo oggi che siamo 28 che punto è il gelo qui è gelo e neve monteverest e si trova un po più sotto quindi solo in aria può nevicare qualche nevicata può arrivarci ma non è niente gelo visto 28 che siamo oggi sta scendendo mal mano ragazzi poi andiamo a vedere qua il 29 scende un po di più quasi nell'everest qualche nevicata gliela butta siamo il 29 e arriva né angry dragon il gelo ma la neve ancora no solo il gelo quindi angry dragon può andare anche a 100 gradi sotto zero poi qui tren il trend quando cade l'asteroide guardiamoci il filmato che sta per iniziare buona al solito questa è l'onda ghiacciata alta 50 metri che le persone questo angry shark evolution angry shark world che le persone visto guardano il mare e gli squali restano intrappolati dentro l'acqua senza via d'uscita poi passiamo il 31 e l'acqua si ferma avete visto beh adesso basta andiamo a giocare con zombie tsunami e facciamo il 24esimo episodio ok buona visione ragazzi eccoci qua ragazzi inizia una partita col potenziamento ah l'ho capito devo potenziare il gold zombie va bene facile inizia un po mi avevo dimenticato che avevo sbloccato oggi le monete grosse cosa diceva la missione 11 secondi di bonus niente non l'ha detto il perfetto perché non le ho prese tutte vediamo vediamo prima missione sbloccato perfetto ora l'ha detto 111 secondi di bonus ah l'ho capito devo giocare con il bonus che prendo perfetto niente 88 secondi però riproviamo al prossimo bonus l'isola di pasco l'isola di pasco perfetto puntata il 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 è una canzone se la volete scrivetemi nei commenti come si chiama e vi manderò il link della canzone che ne dite gold però lo devo avere a livello 2 ecco così prendo più soldi perfetto 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 madò guarda gold monete sono ricco dai che vado a 700 posso andare anche a 1000 volendo ma tutto dipende dalla durata degli zombie dai a meno a 700 dobbiamo arrivarci ninja ecco ragazzi scusate ho premuto per sbaglio qualcosa che l'avevo messo in pausa forse non l'avevo registrato c'è 14 secondi Himalaya Himalaya 120 gradi sotto zero l'abbiamo spiegato anche adesso sarà collegato sarà collegato a the weather the game map l'episodio di zombie tsunami questo qua raga grazie terremoto il terremoto ci dà anche una mano guarda 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 Non male, potevo rimanere bloccato dal muro. Ah, e sono finiti tutti gli zombie. Balloon. Se era di livello uno scoppiano gli insomma. Qua invece è più veloce. Potevo mangiarmelo ma non sapevo come andava a finire. E solo di pass. Niente. Niente. Quarterback. Le macchine valgono una persona. Gli autobus 3. Quattro il caramato. E cinque quelli dell'aereo. Los Angeles. Adesso. Ti pareva. Niente. Vediamo cosa abbiamo fatto. Forma un drago composto di nome. 2. 3. 3. 3. 3. Ecco ragazzi avete visto. 2. 2. 4. 6. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. Ora è ricreazione, già l'ho mangiato. Ora è ricreazione, già l'ho mangiato, già l'ho mangiato, già l'ho mangiato. Ora è ricreazione, già l'ho mangiato, già l'ho mangiato, già l'ho mangiato, già l'ho mangiato. Perfetto. Poteva essere fatta di oro quella bomba. Perfetto. Dov'è? L'altro bonus che c'è è lo gigazombi. Non tutte le bombe sono di moneta. Quella sì, ma alcune non lo sono. Perciò è meglio che eviti. Ninja. Voglio lo gigaz. Il gigante zombie. Perfetto. 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 che ti pareva ora basta il giga questo voglio così fa se lo sentite ma che schifo per due veicoli lo voglio di nuovo il prossimo ok vediamo dove andiamo giga zombie rag per uno che è schifo grazie a tutti isola di pasco mi auguro che ci siano dei veicoli altrimenti mi arrabbio 101 los angeles grazie a tutti ninja mega ninja grazie a tutti 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 a posto 202 202 a posto me lo mancato vabbè niente concludiamo qui raga se siamo arrivati siamo arrivati non fa niente per un titolo per un titolo glielo mettere il 24esimo episodio di zombie tsunami l'everest è sceso ancora molto di più di meno a 20 gradi dicendo 20 gradi sotto zero vi sia piaciuto scala canale mi raccomando mettete un bel like seguici instagram e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti